La chiusura degli allevamenti di Visoni, che ne conta due anche in Emilia-Romagna, esultano le associazioni animaliste e la capogruppo 5 Stelle in regione, Silvia Piccinini. Vediamo. Il Ministero della Sanità ha deciso di chiudere gli allevamenti di Visoni in Italia fino alla fine dell'anno. Al Ministro Speranza arriva il plauso delle associazioni animaliste e della capogruppo regionale dei 5 Stelle in Emilia-Romagna, Silvia Piccinini. La chiusura per tutto il 2021 degli allevamenti di Visoni è un'ottima notizia e va nella direzione che qualche mese fa avevo proposto anche in regione. Adesso è chiaro che queste strutture, oltre a essere un concentrato di crudeltà verso gli animali, sono anche un rischio per la salute pubblica. Non resta che chiuderle definitivamente e per sempre, ha commentato Piccinini dopo la firma del Ministro sull'ordinanza che prolunga la sospensione degli allevamenti di Visoni in Italia per tutto il 2021, tra i quali ci sono anche le due strutture Emiliano-Romagnole a Galeata e a Ravenna. Secondo la Piccinini il provvedimento deve rappresentare il primo passo per la chiusura definitiva di queste strutture, così come auspicato anche dalla regione in aula qualche mese fa. Un obiettivo, conclude la Capogruppo dei Cinque Stelle, che sono convinta anche grazie all'impegno e alla mobilitazione dei cittadini e della associazione animalista e potremo raggiungere presto.